Un tavolo con Vodafone, Icare, Regione e Sindacati per seguire da vicino l'evoluzione del piano industriale del call center con sede all'Aquila e chiedere al committente principale Vodafone di avere una attenzione particolare per questo territorio, per costituire le condizioni perché qui si realizzi un centro di eccellenza in termini di professionalità e prospettiva verso i nuovi mercati. E' la proposta del Vice Presidente della Regione Giovanni Lolli, avanzata al termine dell'incontro dagli stesso convocato, per una prima analisi della situazione all'indomani, della comunicazione data alla RSA il primo aprile scorso dai vertici aziendali, della reinternazionalizzazione della commessa Biottele2 da parte del cliente Vodafone. Alla riunione, oltre al management dell'Icare, c'erano il consigliere regionale per Paolo Petrucci, il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente e rappresentanti sindacali dell'RSU aziendale. L'Icare è presente all'Aquila dal 2009 ed occupa circa 400 addetti, su un totale di circa 2000 impiegati nel territorio aquilano nel settore dei call center. Nei giorni scorsi, la Health System, che a maggio acquisirà il 100% delle quote azionarie, ha annunciato che una delle principali società committenti, la Vodafone, ha intenzione di terminare il contratto con i Care, determinando ripercussioni che potrebbero interessare una quota dal personale attualmente impiegato all'Aquila, circa 80 su 400 addetti. Di qui l'iniziativa di Lolli, che vuole da Vodafone garanzie sulla disponibilità di investire sul sito aquilano, che ha tutte le caratteristiche per diventare un polo di eccellenza anche nel settore dei data center e delle telecomunicazioni. Girls in Sport è il progetto del fotografo aquilano Stefano Colacchi, 12 discipline rappresentate da altrettanti atleti aquilane, l'energia e la femminilità esaltate attraverso gli scatti fotografici. Donne che tendono ad occultare nelle gare il loro lato femminile, che il fotografo invece, attraverso la sua arte, è riuscito a cogliere perfettamente. Dal corpo femminile possiamo avere tante sfaccettature diverse, quindi dalla bellezza, all'energia, alla sensualità di una donna che racconta il suo sport attraverso un'autobiografia, perché questo progetto che racchiude 12 sport, 12 discipline sportive, vengono raccontate attraverso un video dove le ragazze raccontano la loro autobiografia e attraverso un articolo stampa dove verranno fatte vedere le fotografie più belle con la loro biografia scritta. Atlete ritratte durante gli allenamenti, ma anche nei momenti di vita quotidiana, in set cinematografici naturali. L'obiettivo principale di Colacchi è stato anche, attraverso i suoi innumerevoli progetti fotografici sul territorio, mettere in luce quanto di bello abbia l'Aquila in questo momento da offrire. Lo sport è come la musica, cioè lega la gente, quindi il tessuto sociale che in questo momento, in questa terra, è un po' dislocato. Lo sport lo riesce un po' a riamalgamare. Sport e aggregazione, solidarietà e beneficenza, valori fondanti di una manifestazione che da 21 anni in cui coinvolge la città e centinaia gli studenti delle scuole medie e superiori. Il prossimo 4 maggio, allo Stadio Fattori dell'Aquila, torna alla partita del cuore, promossa dall'Associazione Città Solidale. Sul campo le squadre con i migliori talenti che le scuole aquilane possono esprimere, che si contenderanno il dodicesimo trofeo intitolato a Pasquale Giancola, uno dei provveditori agli studi più apprezzati nel capoluogo. Questa manifestazione sportiva riservata a tutte le scuole dell'Aquila, sia medie e sia superiori, riscuota sempre un enorme successo. Perché? Perché è il momento di aggregazione di tutti i giovani che frequentano le scuole aquilane. È il momento anche di conoscersi tra istituti e licei e scuole medie per promuovere quell'aggregazione sociale che manca nella nostra città. Come sempre poi i fondi raccolti con la vendita dei biglietti per l'accesso al campo saranno devoluti ai più bisognosi, per rafforzare il legame che da sempre unisce sport e solidarietà. Noi in partite insomma riusciamo a raccogliere, viene sempre data in beneficenza. e cerchiamo anche in questo settore di essere attivi e presenti.